tiii ragazzi eccoci di nuovo in un altro video questo qua sarà dedicato esclusivamente al cazzeggio 4 secondi per veloce frenesia già qua mi sono fatto una cruce perchè so di che ah frenzy significa frenesia si scusa l'inglese 0 qui il vostro x di burning light insieme a x di capital e nia e x di astro bim vabbè questo gioco è forse con frenzy si trova praticamente ovunque nei migliori video cazzeggio ma è come quello che fa sclerare come hai fatto a questo fa sclerare più di un bue che non entra in una che non entra in una tanna per scoiatoli nel frattempo questo scuola si incazza da solo hai 4 secondi per completare ogni gioco usa le freccette e spazio ok obbedisci 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 e abbiamo sbagliato nooo distruzione del fozzo abbandoniamo morti ragazzi quando andiamo a erba vabbè eh sarei giardinieri x di burning qua che devi fare ah devi scappare dal vostro ah io ero arrivato ero arrivato l'altro vabbè qua che devi fare ah devi far saltare la pallina su tamburo vim vim wow bellissimo cadi wow è caduta giusto giusto centro salta vecchietto salta ma immaginate una sedia a rotelle con i trampolini veramente una cosa su qua che devi fare ah il trapianto di cuore il trapianto di cuore visto quello che non sei riuscito a fare tu eh ovviamente eh la bomba come salta vabbè siamo morti volente vola 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 ovviamente ma che cosa è quella merda di camion ma che è ma diceva attraverso il coso non diceva fallo due volte fallo due volte e dovevi fallo due volte ovviamente ma che devi fare meno 6 8 mamma ma che devi fare ah 7 5 5 ma non 7 8 vabbè ma il ditto è mi sminchiato premio 1 premio 1 1 ma ok 1 la fogliorina la fogliorina la la far buciare dal sole ah ecco fatto ok adesso qua che devi fare ah devi mettere il pennello tatata tatata parca put no no 99 secondi 99 secondi di gioco oddio ma che cosa vabbè ah poi gli altri modi sono eh le altre cose sono soltanto una vita e rupe il fanzo ah ho capito bruciato tutto l'universo una meta di bruciato vabbè passiamo al pozzo e portiamo sopra l'acqua vabbè 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 tironi taglie uh hanno capito lo troppo ho capito ho capito futuro combedisci i quelli in giuro anche per l'insurale ok poi Donald carretto sbagliato mamma che quello non ha capito quello sbagliato ah, guardi che c'era la macchina e io so bravo a parcheggiare eh vabbè mai non ho la patente e anche io questa che è una salsa che prende per stile è una salsa che prende per stile ah il tra pianto di cuore il tra pianto di cuore eh eh il tra pianto di cuore uscita non sappiamo il tra pianto di cuore com'è ah questo è sicuramente la bronzante prima olè fico adesso qua che cosa devi fare perché vai a fuoco poi devi fare ah devi prendere rettangolo non l'hai preso uno due tre quattro corri corri baffetta corri baffetta clicca space vai clicca space clicca space clicca space è cliccato space ma tu clicchi space ah ho capito vabbè dovevi aspettare ah ah ma le vinte sono questi curicini qui ho capito dove dire non ti sei neanche mosso vabbè non ho capito ah ah che pallino sei ma ce l'ho fatto lo stesso che pallino è non si sa ragazzi che devi fare questo devo ah devi buttare la palla non mi da neanche il tempo di farne e ora che cazzo succede si è smicchiato si smicchia cos'è ah il boss finale che rompe il cazzo cos'è come boss finale che rompe il cazzo oddio è bruttissimo oddio ah devi ah vabbè ma questo è ah il palloncino che deve salire l'affinciale ah ho capito ho capito fai bene il numero zero quattro e hai perso zero quattro hai perso aspetta posso provare un attimo io vorrei vedere cioè come vai a fare due tasti così distanti tra di loro non lo so però voglio vedere cioè ci metti una dita soltanto per arrivare al quattro voglio vedere la differenza tra questo gioco e questo ah ma qua devi cadere la foglia deve cadere dritta eh per forza ah ci sono riuscito non so come ma ci sono riuscito fai saltare il coso fai saltare il coso bravo ah ok perché sta fischando trappianto di cuore dai ce la posso fare trappianto di cuore vai 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 ma se non è riuscito è riuscito non si sa come vola 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 non suicidarti ma perché la gente si capisce sempre di suicida quale devo fare devo guidare questa spiglatrice ah per caldo la spiglatrice si sminchiata benissimo dovevi vabbè quindici meno sei fa uno no mannaggia uno più se fa quindici vabbè eh previ 5 previ 5 previ 5 previ 5 previ 5 ho premuto 5 1 5 ho premuto 4 vabbè ho fatto niente vabbè quale devo fare ah a fuoco ma come dai ma cammita almeno una seconda chance salta 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 no suicidati vabbè almeno posso fare una volta io vabbè una volta per ora non fa male a nessuno non fa male a nessuno non fa male a nessuno ci prova che è il capitale che io non saprò come si gioca basta che muovi le freccette non so un cazzo adesso sinistro adesso sinistro adesso sinistro adesso sinistro bravo cazzo sono nel culo quale sei una sassa stelle quattro stelle quattro stelle si sminchiate che si sminchiate una sassola si sminchiate spazio 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 la merda non la colpisce mai vabbè adesso devi ma quello che cos'è è andata a pisciare acqua di minima evitare le cose di asteroidi di asteroidi ci sanno pure a pisciare quale quello che cos'è andrà a culo questa è che cos'è pozzo e sali sul cazzo ah basta e pozzo e sali sul cazzo spara 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 vada si cazzo è sta roba fai tredici tredici e' un po' 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 devi prendere il tesoro prendi il tesoro prendi il tesoro ah ah e' un po' vode anse cross vai no non è che si sta e' scusa parcheggiare 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 il piano che stacca tu devi staccare tu te ne non so e' un bravo e' un po' e' un po' vado a dare la testa x diastro bim sai x diastro bim vai x diastro bim vai x diastro bim è l'utile che ti nascogli x diastro bim x diastro bim x diastro bim ti vorrei sussere un po' zitto scusa x diastro bim e' un po' che spazio ogni tanto ogni tanto per fai a cazzo tanti sicurecini spazio spazio no spazio ok 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 prima andate prima andate a culo adesso muovi ti muovi ti ok io vi chiedo non è adesso non fa niente adesso qua devi evitare tuoi devi muovi ti muovi ti in mano non si è mosso spara 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 compliments specialmente spari suona apri supportali only no house natale ko 1 au yeah ali in pratica le foglie muoniono? contro il burro, vabbè schiacciamo è morto in 46 secondi e io invece quando sono morto a quando sono morto? 51 non ne parliamo, 32 ok vabbè ognuno ha il suo cuore io mi ricordo 89 tu invece hai 135 vabbè vabbè che si può brava a questo gioco allora 3,3,5,7 3,5,7 si vede che non è fatta in tempo a questo livello da incazzata no per fortuna questo qua la sassa prendi stelle dai il pan di stelle pan di stelle ma la presa è un luogo si c'è il traguardo il sole il traguardo è il sole spariamo al primo coso qui scuola sparato anche cosa è sparato il pulsante in cui c'era scritto spara questo caso di obbriata si cazzo e si cazzo vabbè qual'è quello sbagliato con questa vita ah ah se no quello sbagliato è quello sbagliato ma salta questo è come che il mare che non sa saltare vabbè 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 c'è riuscito quattro anni vabbè 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 casavese fatto tutti i due scolattolini risalvatiche veramente veramente sicuro 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 è come se uno scolatto è come se la scolatto dinastica stessi citati in una morte ti prendi la mano e lo butti tu vai su non schiantati sei di problemi vabbè parcheggia piano piano no mamma mia ma hai preso la patente dove cosa che devi fare che cazzo è successo non schiantarti contro il muro evitare le linee evitare le linee come cazzo gli sei riuscito cosa che devi fare 119 secondi vabbè adesso provo e facciamo il giro vabbè schippiamo schippa 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 non ho capito i livelli facili li riesco a fare i livelli difficili li riesco a fare ma culo altri livelli come questo devo muoverti ah devo muoverti spegni spegne le candeline devi muovere la testa e ma non ci stanno le candeline sembrano tante mini caccole e devi spegnere le mini caccole e vabbè però non ha senso cosa che devo fare salta ma perché questo fa come cazzo mario ma non mi chiesto l'odio c'è questo dove mai spesso giusto gay perchè sono gay yes che dovremmo ah ah ho premuto a cazzo vabbè comunque che devo fare muoviti muoviti come mi diamo ma come fate che sa sobbiamo muoversi non ti abbia fatto a culo schiacciare la mosca la mosca enica enica schiaccia ma non c'è ho scattato anche l'odio ma tu sei la mosca ah io sono la mosca eh ma va fa un cù ma pensavo che era vabbè adesso non ti schiantare non ti schiantare ce l'ho quasi ce l'ho quasi ce l'ho quasi ce l'ho quasi devo mettere e infila il pene infila il pene infila il pene non devi stuprarti vabbè facciamo vedere fai 12 12 1 e 2 non 21 12 non 21 vabbè vabbè quante morte riprovo io ho fatto non si sa vabbè non lo voglio neanche contare passiamo per fatto tutte le morti io ho fatto tutte le morti possibili immagini io non dico vivendo il video che cosa cazzo è successo l'estero giusto ebbè vabbè adesso vabbè questo non vuole aspettare cosa sta bene in posto bene e poi vai su ancora su no ma come penso vai aspettare ma perché non si muove scuola aspetta se devi cliccare vai adesso prova adesso ok vai 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 vabbè ma allora si è drogato il computer vabbè si per me ha colpito anche vabbè 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 qua dobbiamo evitare che questo qua venda le mutande a fuoco in costumazione frappianto di cuore si è vivo grazie a dottorix di capità legnata vabbè vabbè qui non so non è capace non è capace non è capace non è capace a stirare infatti non è spazio vai fatti un bombolone fatti un bombolone no per poco che è successo si è andata a foto da solo ah si bravo hai fatto una foto poi hai fatto una foto come ho fatto una foto hai fatto una foto mi pare si bellissima bellissima vabbè qua invece che devi fare ah questo lo so fare ah wow ok che culo vabbè qua devi colpirare le mammelle si ah pensavo iiii iiii pensavo che bisognava colpirare le mammelle perché già no vabbè no vabbè qua non no aspetta 85 secondi 85 secondi vabbè c'è un'immigrazione c'è un'immigrazione il schiastro bim faccio il schiastro bim c'è la quinta non posso fare c'è la quinta non sclerare perché si scleri vai devi premere le frecce non spazio anche quelle le frecce esiste tutto c'è scritto le frecce cadere modo fanculo cadere modo fanculo vabbè qua devi vedere il tesoro vai in avanti no pssh vai perché già bene ma c'è qualcuno guarda un po' si è rotta la macchina ma tu guarda non siete capace di acquistare bravo che car doveva semplicemente sparare questa volta ah vabbè qua invece devi soffrire le candee vai sopra vai sopra ma non si può sparare le mie caccolè è impossibile ma che è ma che è qua invece non è andato vabbè 37 secondi 30 secondi morti 37 secondi facciamo l'ultima volta facciamo l'ultimo giro ultimo giro ultimo giro perché veramente ragazzi no vi consiglio di giocare a questo gioco veramente senza evitiamo le linee eh vabbè le linee sono facili da evitare vabbè tanto tu che morivi sempre eh infatti mi ricordavo e chi è questo Brock Lesnar rocking prendi secchio sul cazzo no scherzo è batista bravo perché c'hai capelli vabbè qua non ho capito che cacchio si deve fare mi faccio compiare il palloncino ah il palloncino qua non ho mai capito come si spengono stimolica fatto con le precette ancora ma muoviti di lato anzi muove parcheggia costa a costa ok cost to cost a costa a costa a costa che ha gioco di luciano a schiller cioè non ha toccato e ho perso ma questo gioco è molto truloso si è andato in culo alla balena oddio spara le uova sogne le uova sogne ah ok ah lo pensavo perfetto boh è come quell'esempio che finalmente ti sei imparato a cucere le uova poi all'ultimo vatti le uova a terra la sassa la sassa pandistilla perfetto quante vite hai ah hai tre vite ah ma si muove con le frecce penso che si muove con lo spazio come cazzo ha fatto chi si ha subito ma non si sa boh va vabbè eh qua che devi sparare ma di più cazzo ma è difficile questo no devi premere praticamente ah sono con te ci sta mosto speciale qua di il mosto se riesci a riempire la barra ovvio che compare il mosto riempi il cazzo riempi il cazzo però rimango soltanto ah i livelli stanno i vari denti di questo tizio si queste le carie vedi le carie le carie sono i livelli di non senza vado a questo cazzo stavo per morire però ti sei salvato subito devi completare tutti i denti si vabbè la lingua non c'è non c'è la lingua wow bellissimo ma se cadi troppo giù non hai che perdere vabbè vabbè qua devi no hai toccato sei diventato una cellula qua mi pare che perdi sempre hai perso cazzo vabbè e sei morto sei morto sei morto c'è vado a traste testo vabbè ma vabbè 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 sono caduto ci posso fare questo non ho mai capito come cacchio si face vabbè stersa taglia tutte taglia tutte taglia tutte che cazzo è successo vabbè vabbè spazio adesso c'è il verde vabbè bravo 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 vabbè 8 per 1 fa 9 8 più 1 8 più 1 ma che cazzo non andare in culo è andato è diventato vabbè non fa niente qua che devo fare qua che devo fare le freccette le freccette ho sputato un po' il culo il culo il culo il culo della puttana vabbè fa niente ma vaffanculo 56 secondi vabbè vabbè la battuta il regolo di 37 vabbè di 57 secondi vabbè vai xd capitale capitale vabbè vabbè ma l'amore ma l'aperto già il primo ok ma l'aperto già il primo vabbè ma tu vai sempre a culo quindi cazzo sono 20 minuti che stavo giocando chissene frega hai visto vai a culo vedi ok vabbè evita il titolo oh ma se non è l'amore ma che cazzo che cazzo ma per questo il vero oh che culo mi so capitano buono mi so capitano le vedi più facili mamma mia no 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 sono una mosca di merda vai via vabbè io pensavo di essere una persona che schiacciare mosca la schiacciata ea ops ma svolto per svolto non hai spesso il desiderio vabbè giù qui 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 no c'è 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 volante vola qui vola vola ma si troppo in alto vola cade precipitano vitt ops ops oh ci sono mucca porca vacca di qui di qui taglierba vini 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 taglierba vini il culo vini tv vini 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 no no vabbè questo livello è quello che lo annunziamo e vabbè perchè è premuto? non lo so la siglaire dell'idea oh bellissimo qua devi diventare no 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 si ok perfetto questo livello non l'ho mai capito come si fa vabbè una volta se vuoi farlo aiuto 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 yeah ah allora vi provo a merda ah si finalmente ah la cosa quindi la salsa guardate no 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 ma 106 secondi vabbè x di astro b va i lontano la ritmo è un otto lontano lontano ilazebo 0 x quest settimana GO boh l'uomo non puoi passare col rosso vai vabbè non fa niente dai salta devi saltare neanche toccato terra si è suicidato subito ammazzato i cammiferi poi non devo stare vabbè schiantati vengili stick side evita che le mutande di questo tizio vanno in mutande aaaaaah e poi ho premuto 2 2 5 è facile 2 2 5 32 secondi per morire oddio santo vabbè facciamo un applauso al nostro xdastro b ma che ha battuto il record bravissimo xdastro b veramente bravo vabbè vabbè concludiamo qui questo fantastico video di video col cazzo vabbè sentiamo la perla di saggizio dei nostri xd burning grazie mi rafforzo eh mmm 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 che saggezza di xd burning light eh non fate le cose di frutta ok che vanno di frutta che vanno di frutta ok ringraziamo la perla di saggizio dei nostri xd burning light noi ci vediamo la prossima qui da xd su barbara xd capitale è nata xd burning light xd astro bim ci vediamo la prossima tanti comment tanti allucci in su tanti mi no iscrivetevi iscrivetevi e seguite sempre per la di saggizio ciao ciao